Vorrei parlare un attimo con voi di Chris Pulisic e vorrei parlare un attimo con voi di Francesco Camarda. Partiamo da Chris Pulisic. Qualche anima cattiva, qualche anima nera, tremendina. Questa mattina rimetteva sui social una cosa che un giornalista molto importante, come Sandro Sabatini, diceva qualche mese fa, credo alla fine della scorsa stagione, dice ma insomma sì, Pulisic avrà anche fatto i gol di Thuram, però se vai un po' oltre i numeri in fondo tutta questa differenza fra Pulisic e del Sharawi non c'è. E quindi si risaliva al mercato estivo del 2023 che il Milan avrebbe sbagliato, eccetera, eccetera, eccetera. Anche se io penso che un mercato che ti porti due giocatori che ti alzano, che ti creano continuità e ti fanno alzare la testa, proprio come tante cose come Pulisic e Renders, un mercato non può mai essere definito sbagliato, ma stiamo vedendo adesso, anche se c'è un momento di riflusso di Loftus-Cheek, ma anche Okafor e Ciukwezza stanno arrivando. Però al di là di questo, insomma, al di là di… perché poi ragazzi i giornalisti, ogni cosa che… parlare di calcio è pericolosissimo e ogni cosa che dico io può invecchiare, anzi invecchiano sempre quasi tutti male, quasi tutte male le cose che dico io. Però può succedere che tu stai facendo un discorso, fai una provocazione di carattere editoriale, di carattere giornalistico, non è certo la fine del mondo. Oggi Chris Pulisic sta vivendo un momento di particolare allure, ma io non vedo grandi differenze fra il Pulisic di quest'anno e il Pulisic della scorsa stagione. Non so se vi ricordate certi gol di Chris l'anno scorso in casa col Frosinone, a Monza, molti altri, insomma, gol a Bologna, a Bologna, gol assolutamente strepitosi. Io penso che, se devo immaginare alla formazione di Bologna, mi vedo Chris Pulisic, trequartista, sotto Morata e poi due esterni. Poi non entro nel ginepraio di chi devono essere i due esterni, perché abbiamo già parlato prima. Però immagino questo e immagino Pulisic, cardine, anima di questa squadra. E vedo tutti sostanzialmente concordi oggi. Poi vedo ricostruzioni. Adesso non entro in ricostruzione perché, per carità del cielo, tanto ho capito da contatti diretti e indiretti che hanno sempre ragione gli altri. Io ho capito, va bene, vincono sempre loro. Va bene così, va bene così. Però leggo che adesso Pulisic varrebbe 40 milioni. Io mi chiedo ogni tanto, i giornali italiani, io penso che sia una cosa solo sul Milan questa, per tanti motivi. Però i giornali italiani, quando tu devi prendere un giocatore all'estero, costa 60, 70, 80. Quando invece devono dare una valutazione, un giocatore che stai valorizzando tu, 25, 30, 25, 40. Cioè io non capisco francamente. Non capisco. Non capisco. Con i soldi che girano in Premier, ad esempio, non sto mettendo Chris Pulisic sul mercato, sia ben chiaro, anche perché Chris ha fatto i suoi anni duri e una volta che ha trovato la sua zona e la sua squadra, certo, non la lascerà e non la lascia facilmente. Però se tu oggi dovessi parlare di Pulisic in Premier League, per la media dei prezzi che ci sono in Premier League, uno da 80 milioni. Ragazzi. Ho esagerato? Ho fatto quello in eccesso rispetto a quello in difetto dei 40? Va bene. 60? Ok. 60, 70. Ok. Ecco. Per cui, insomma, in ogni caso, senza fare discorsi troppo complicati, teniamoci il fatto che dall'inizio dell'anno solare 2024, Chris Pulisic, il giocatore della serie italiana che fragò le assist, sta fatto di più rispetto a tutti gli altri. Se ne parla molto poco di Chris Pulisic, adesso no, se ne parla molto. Io potrei dirvi di chi era il pupillo e di chi l'ha voluto fortissimamente Chris Pulisic nell'estate del 2023, ma non lo dico, perché se no la propaganda, eccetera, 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 non lo dico, però prima o poi, insomma, verrà fuori e sarà cronaca. Quest'anno siamo, in questa stagione siamo già a sette gole, tre assist, insomma, tanta roba, ragazzi, tanta roba. Andiamo, dicevo qualche tempo fa, ma il Milan sempre i tagli da 20 milioni. Beh, Pulisic è un bel taglio da 20 milioni. Si dice sempre, ah, Calulu, rimpianti Milan. Magari ci sono anche dei rimpianti Chelsea per Pulisic, succede nella vita, magari ci sono. Voi cosa dite, ci sono o non ci sono? Va bene, però, bisogna parlare di quelli del Milan. Va bene, va bene, va bene. Vorrei parlare un attimo di Francesco Camarda. Eh, i tifosi del Milan, i tifosi del Milan sono stati devastati dall'annullamento del gol di Francesco. Ho testimonianze dirette e indirette di tifosi del Milan che sono usciti dallo stadio con, e hanno lasciato, e sono andati a nanna con questo pensiero qua. Non tanto la sostituzione di Leao, il gol del Brugge in 10 contro 11, la vittoria per 3-1, i primi tre punti di quest'anno, ma, cavolo, è stato annullato il gol da Francesco. E io in questo riconosco molto il tifoso rossonero. E quindi capisco quanto Francesco Camarda sia un tema sensibile per il popolo milanista. Lo capisco e vedo delle differenze. Camarda è tornato, ha esordito in Champions League nell'ottobre del 2024. Qualcuno di voi ricorda l'esordio di Camarda in campionato? Io sì, dicembre 2023. Un anno fa, diciamo, dieci mesi e mezzo fa. Non so se vi ricordate, gli spagnoli parlano di miedo e scenico. Letteralmente è la paura del palcoscenico, ma è anche la capacità di tenerlo, di riempirlo. Ecco, io penso che se voi ripassate alla mente quei minutini di Francesco in Milan Frosinone e i minuti di Francesco in Milan Brugge, vedete già una differenza nella capacità di riempire il miedo e scenico da parte di Francesco. È chiaro, sono passati dieci mesi e mezzo, però sono passati bene. Sono passati bene. E poi mi sembra che finalmente sia cambiato anche il percepito, sia cambiato anche il contesto, diciamo, mediatico e dichiaratorio attorno a Francesco, perché io ricordo quello che si scriveva dieci mesi e mezzo fa e quello che si diceva sui social e in tv dieci mesi e mezzo fa su Camarda. Si sbeffeggiava il Milan. Ah, il Milan è costretto a mandare in campo un quindicenne. Il Milan veniva compatito attraverso l'esordio di Francesco Camarda in Serie A. Oggi invece non è più così. Oggi invece quasi dai Milan fallo giocare di più. Non lo ha detto soltanto il presidente federale Gravina, in un'uscita mi perdonerà il presidente federale un po' in cauta, ma vedo che è anche un po' la posizione principale a livello mediatico, social, giornali, su Francesco oggi. Beh, insomma, lasciatemi dire, meglio tardi che mai rispetto a quello che si sosteneva a dicembre del 2023. Ciao a tutti e a domani.